Musica Papà scusa Possiamo giocare sul computer a Fortnite? Forse dovreste chiederlo alla mamma E sti gazzi? Allora va bene anche per me Ma non so dove possa essere il dischetto Iuppieee Ora tocca a me piccoli Wow Hehehe Hehehe Ok Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.